Andrea Scotto, terza stagione con la Berretti dell'Entella, anche questa stagione Andrea ha cominciato per la verità, forse la prima che comincia un po' così all'avanguardia, non subito da primi posti, negli altri stagioni si era arrivati piano piano, soprattutto nel finale, a raggiungere grandi traguardi. Quest'anno invece è partita subito bene, nonostante una squadra molto rinnovata. Sì, non ce l'aspettavamo neanche noi, devo dire la verità, perché poi quando cambi tanto non pensi di trovare una squadra già collaudata come sembra che siamo in questo momento. È una squadra molto disponibile al lavoro, una squadra che si applica tantissimo, tecnicamente abbiamo dei valori importanti e secondo me nelle prime giornate, ora a prescindere da tutto, abbiamo dimostrato anche mezzi caratteriali non indifferenti, perché abbiamo incontrato squadre, secondo me, di un calibro molto molto valido e noi ci siamo fatti trovare pronti. Quindi quello che pensavo che fosse un pochino il nostro tallone d'Achille, invece si sta dimostrando un'arma in più e questo mi fa veramente piacere. Ecco, il primo posto di classifica è un po' un'arma a doppio taglio, da una parte c'è l'entusiasmo che comporta all'interno del gruppo, dall'altra c'è anche le maggiori attenzioni da parte degli avversari. Sì, sì, sicuramente. È normale che quando sei lì fa piacere a tutti e preferisco avere tante attenzioni sopra che averne meno ed essere dietro. Però noi dobbiamo andare a valutare più che altro una crescita, soprattutto dal punto di vista del singolo, poi quella di squadra viene da sola. Ora ci troviamo catapultati primi in classifica, dopo cinque partite con cinque vittorie. Non penso che sia una cosa facile, i ragazzi stanno facendo una cosa enorme, ripeto, soprattutto sotto il profilo caratteriale. La cosa mi sta dando soddisfazione a prescindere dal primo posto in classifica. Vi ho imparato dei singoli di squadra, sicuramente ci sono alcuni singoli, cito Saber, cito Rubino, cito lo stesso Marino che ormai sono collaudati e già conosciuti. Però credo che la cosa che più è balzata agli occhi in queste prime partite sia stata invece la forza di questo gruppo. Sì, sì, quello che continuo a ribadire, di cui sono veramente non felice di più, è proprio che vedo un gruppo unito. Quando io vedo un gruppo unito rimango dell'idea che i risultati, a prescindere da quelli nel campo, che ora ci stanno dando ragione anche quelli, arrivano soprattutto dal punto di vista della crescita di gruppo, tecnica, di squadra, perché sono un gruppo unito, un gruppo affiattato. E quando comunque tu lotti tutti per uno e uno per tutti, alla fine si ottengono cose al di sopra delle possibilità del gruppo. Non penso che noi eravamo la squadra più forte di tutte quelle che abbiamo incontrato, ma abbiamo dimostrato di avere qualcosa in più di tutti quelli che abbiamo incontrato. Quindi questo mi fa veramente piacere. Questo qualcosa in più potrebbe essere anche il carattere che porta a volte a recuperare, a rimontare partite come è scaduta spesso questa squadra. Sì, 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 infatti l'aspetto più importante di questa squadra è proprio questa. Noi ogni vittoria che abbiamo tenuto, con la Tritimo in casa, con l'Alessandria in casa, con il Pavia in casa, domenica a Cuneo, siamo sempre andati sotto. Quindi questo mi inorgoglisce perché mi rendo conto di avere un gruppo che in qualsiasi momento della partita può fare di tutto, in positivo e in negativo, ma in positivo sicuramente hanno dimostrato tanto. Parliamo di abbiamo imparato di Cuneo l'ultima partita, quindi questa bella vittoria in trasferta su un campo assolutamente difficile contro una squadra molto forte, con un piccolo episodio spiacevole alla fine che peraltro poi si è risolto per il meglio. Sì, 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 siamo rimasti al libido di tutti perché comunque è stata una partita bellissima e correttissima. La partita di Cuneo è stata una delle più belle partite di questo inizio stagione, sia per i nostri avversari che per noi. È stata una partita corretta, una partita molto tecnica e quindi a fine partita, quando si è rientrati negli spogliatori, eravamo tutti molto sereni. C'è stato un piccolo, qui procuò tra un mio giocatore, uno spettatore, ma veramente di poco conto. Infatti è scemata subito e quando sono rientrato negli spogliatori, rimbrottando il mio giocatore per l'accaduto, è normale che subito dopo, giustificati anche dal risultato, si sono lasciati andare a un'esultanza, ma contenuta, senza che c'è stato questo piacevole episodio. Io penso che in quel momento lì il mister Del Cuno ha perso completamente la lucidità, perché è stato un episodio, ma inspiegabile, quello che è successo. Lui prontamente, dopo 40 minuti, ha mandato un messaggio di scuse e il giorno dopo ha ribadito le scuse ai giocatori, ai miei collaboratori, quindi penso che anche lui si sia reso conto del gesto. Però sono cose che nel calcio, soprattutto, si, capitano, ma soprattutto a livello Berretti, sarebbe bello che non succedessero.